Salve a tutti amici ma soprattutto amiche del web, del web, del web, discuteremo tutti insieme della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, iscriviti al canale, iscriviti al canale, è molto importante iscriversi al canale così avrai sempre una notifica dei nuovi video, iscriviti, iscriviti, per la rubrica ne parliamo insieme, discuteremo della ventinovesima giornata del campionato di Serie A, per essere precisi della partita tra Benevento e Cagliari. Primo tempo finisce 0 a 0, secondo tempo segna il Benevento con Brignola, il Cagliari risponde con Pavoletti, segna un Cetto Barella, il 2 a 1 definitivo del Cagliari a Benevento. Ormai il Benevento è quasi spacciato, la Serie B è alle porte e quel Benevento era salito in Serie A grazie ai playoff che ormai nessuno ci credeva più, ma il calcio è bello anche per questo. Mi dispiace di questa retrocessione, ormai mancano poche partite ancora e sarà quasi definitivo. Il Cagliari a me mi sta sbalordendo sempre di più, questi tre punti del Cagliari sono tre punti pesantissimi per la classifica. Faccio i miei complimenti alla squadra del Cagliari per i tre punti conquistati. Benevento mi dispiace dovrai ritornare di nuovo in Serie B. Mi raccomando iscriviti al canale per non perdere i prossimi video, lascia un bel like, condividiamo il video sui social, un saluto a tutti dal vostro amico video, al prossimo video! Grazie a tutti!